L'enologia Made in Puglia arriva qui a Villanobel, siamo nel cuore di Sanremo con un progetto di più ampio respiro, ovvero quello organizzato insieme alla Regione Puglia da Antonello Magistà, un progetto che vede protagonista il vino pugliese, in particolare quello della cantina Sandonaci. Antonello? Sì, Sandonaci ha mostrato da subito, da quando gli abbiamo presentato il progetto, la sensibilità ci aveva subito esternato con entusiasmo la presenza in questa bellissima avventura, si sta rivelando molto bella, molto interessante e molto stimolante, perché dopo qualche giorno, da quando abbiamo iniziato, gli ospiti e qualsiasi tipo di ospite ci sta davvero travolgendo con entusiasmo rispetto alla selezione che abbiamo fatto di enogastronomia in genere. Cantine Sandonaci abbiamo selezionato l'etichetta, l'ultimo nato che è il metodo classico, che è il momento davvero, è un brut che fa due anni sui lieviti, davvero molto molto interessante e ha allietato l'aperitivo a tavola quasi tutte le sere. Andiamo a descrivere le altre etichette? Sì, sì, volentieri. Abbiamo parlato di un metodo classico, che ovviamente è una bollicina bianca, poi abbiamo un bel fermo, è bianco, assina. Assina, assina bianco ed è espressione del calore, del sole salentino, lo abbiamo abbinato a dei piatti che gli chef che si sono susseguiti, si stanno susseguendo nella settimana, ci sono molti chef che hanno preparato piatti di pesce, è stato super apprezzato per l'abbinamento, per la freschezza, la morbidezza, che sicuramente sono tra le due caratteristiche più interessanti che ha questo bianco. E non si può dire salento se non si parla di un salice salentino rosè. Qui salice salentino rosè, devo dire che è molto divertente, ma bello anche perché è un motivo in più per argomentare, per confrontarci con tutti gli ospiti a tavola, perché è inevitabile che la stessa cantina che produce due rosati, così buoni naturalmente. La gara a quale più buono c'è sempre, devo dire che se la giocano salice salentino e l'anticaia è sicuramente l'etichetta della tradizione che ci caratterizza un po' anche per l'etichetta interessante che riprende il rosone delle luminarie, che sono presenti qui a Villanobel in maniera preponderante, la vediamo la cassa armonica, tutta fatta di luci. Per quanto riguarda l'artigianato naturalmente pugliese, anche rappresenta una delle nostre eccellenze, e quindi la coerenza della nostra terra riportata sull'etichetta della bottiglia è molto divertente, oltre che elegante. Il vino è piaciuto molto e devo dire che questo molti ospiti lo chiedono anche a prescindere dagli abbinamenti, anche come aperitivo, per chi non beve bollicine, è molto gradevole e lo hanno apprezzato in qualsiasi momento, anche nel tardo pomeriggio. Un Sussumaniello poi, che è anche un altro grande classico del vino made in Puglia? Sì, questo vinificato in rosato, devo dire che è stato forse il più apprezzato dagli ospiti, è possibile anche per qualche abbinamento più puntuale, da un punto di vista tecnico, sappiamo bene che spesso, a prescindere da tutto, c'è il cibo che esalta il vino, il vino che esalta il cibo, è un bellissimo connubio con il Sussumaniello vinificato in rosato. Intanto è stato molto bello spiegare le caratteristiche e la storia di questo vitigno che è tornato alla ribalta da qualche anno, perché ormai era in estinzione nella nostra terra e naturalmente il nome rispetto ai nostri primitivi, al nostro negro amaro, è insolito, è sconosciuto, è più ed è stato anche interessante e devo dire mi ha fatto anche sentire in queste vesti di ambasciatore della nostra terra, perché raccontare oltre alla storia ma anche le caratteristiche, le peculiarità di questo vitigno interessante, insomma, ha catalizzato l'interesse di molti ospiti a tavola. Siamo con un negro amaro, non si può dire, anche in questo caso lo dico, non si può dire Salento se non si parla di negro amaro. Questo abbiamo evitato di servirlo ad altri artisti in gara, perché... Ci potrebbe essere il conflitto di interesse, è chiaro. Sì, perché potevamo sembrare di parte, naturalmente, come tifosi dei negro amaro. Ma loro sono senza oso, no? Agli altri artisti abbiamo servito altro, perché ci potevano muovere questa critica, però è stato un vino con cui abbiamo chiuso, diciamo, abbiamo chiuso il pasto con dei secondi un po' più strutturati e è stato molto apprezzato e naturalmente è il vitigno che gli ospiti, non pugliesi, e ce n'erano tanti, quasi tutti anzi, naturalmente collegano di più alla Puglia. È sicuramente il vitigno più rappresentativo. C'è un'etichetta che lei consiglierebbe, Antonello? Ma io devo dire no, ma non perché non ci sia una che mi piace più dell'altra, è perché ritengo che ogni momento della giornata ha il suo vino ideale e quindi non posso fare a meno della bollicina o di un bianco fermo alle 11.30-12 del mattino, se volessi fare un aperitivo. Mi piace molto con una cucina leggera, con una cucina, anche se vogliamo, poco impegnativa, pasteggiare con un rosato e naturalmente poi chiudere, voglio dire, con il Negro Amaro, oltre che per un piacere personale, perché è un vitigno che amo, adoro da sempre, forse è il vitigno che da piccolo mi ha avvicinato al vino, sia per la curiosità del nome, per la storia, poi anche per le sue caratteristiche e mi ha, devo dire, a volte quando qualcosa naturalmente ti piace di più riesci anche a trasferirla meglio e la cosa bella è stata anche questa, dove tanta gente che non lo conosceva si è entusiasmata. I ricordi, le radici, Antonello Magistà per Cantine Sandonaci, grazie. Grazie a voi, grazie.